Salve a tutti ragazzi questo qua ancora De De Mitico e il video strada al successo FIFA 15 ultimate team, il la falletto cn ok ok che cazzo vuole fare sto qua non frega un cazzo tanto no De Gea scusa Mito De Gea ok Scala in gol, è un, avete visto? Oh mortacci tua, attenzione, attenzione, tiro, oh mio come cazzo si fa? Oh wow mortacci tua Iniesta, Iniesta, Modric, cosa succederà? Cosa succederà? Attenzione, boss, Benzema, oh cazzo Un po' culato di merda Non è senso che è passato a me, che cazzo vai? Oh cazzo tu, ah percò tutto, oh man Si, dati in giallo, il filo di tutto, ok? Oh, che cazzo è un gol, è un gol, oh mio dio, oh, come si fa? Ok, bene, Benzema, Benzema, ok, Benzema, cosa fa Benzema? Tiro, e gol, oh no, no, come si fa? Non segnerà, raga, oh mio vaffanculo, non hai capito? Posso scopare il tuo suo remoro? Coglione, tanto segnerà lo stesso quindi Ok, basta, scopare il tuo, oh mio vaffanculo Ok, basta, scopare il tuo, oh mio vaffanculo Ok, ci sta, raga Stupido, non sa che il portiere è in linea Coglione Ok, 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 ok Ok No, ah ah, vediamo il beccato Tiro Oh wow Secondo tempo ragazzi, ancora vuoi segnato da zero, pulato, niente, niente, un po' di scott, vedete io ho più possesso di lui, 59%, più tiri, zero gol, più accurazione, cioè sto dominando ma sto ancora perdendo, grazie a lui, ragazzi scusate se oggi parlo un pochino così e so che sono un pochino stanco, non stanco ma concentrato e anche... Sera, ok, scusate che sono un pochino stanco, ieri sono andato in palestra, Ok Ma che cazzo posso... ero io? Ma che cazzo fa sto qua? Scusate ero io devo mettere a posto sta roba qua, un attimo Sulla a posto 3, 2, 1, pausa no? Era la pausa del caffè, avete bevuto il vostro caffè? Ok Che cazzo pensi di fare? O tirare dagli e segnare? Uguaglionaccio Sbrigato Che cazzo vuole fare? Ora vediamo Anche per sole Dimentico è qua Ok Su, andiamo Andiamo Benzema, lo vedo Lo vedo Oiii Fallo, arbitro di nuovo Allora Buffon Ha fatto un tocco dal giro per andare verso la linea Iniesta Uuuu L'avete visto Ok Ancora pallone Ancora pallone Tiro Oh No No Di sottiravo il signore Ragazzi io sono ancora pronto per sfidare uno di voi Basta solo che avete una playstation 4 Il mio nome è De De Mitco Ma quel tiro era bello ma solo perchè lì faccio schifo Ma comunque come dicevo ragazzi se volete sfidarmi su FIFA O Call of Duty oppure a giocare su GTA Aggiungetemi Scrivete Il mio nome è De De Mitco tutto in Maiuscolo Allora l'avete visto Finalmente Rodriguez Dominal time Figlio di Zach Il mio nome è De De Mitco Iscrivete il nome del gioco che volete fare Scrivete il Ho visto che Ho visto che giocata Mito De De Mito, chi sono io? Oh? Eh mio, ma puoi sfidarvi, eh? 2 a 1 di qua. Sì, aggiungetemi e scrivete il gioco che volete fare, gioco insieme. Se io ovviamente il video lo registrerò, è... ...e vi sponsorizzo anche tramite quel modo lì. Quindi se praticamente voi avete un account su YouTube e potete sfidarmi, io vi sfido. E allo stesso tempo vi sponsorizzo anche così. Ragazzi, sto anche pensando di iniziare a fare video di sponsorizzazioni, quindi... ...e commenti. Non scrivetemi solo il vostro nome, ma... ...voglio che... Cioè... Molti canali su YouTube vi chiedono per... Oh, wow. Molti canali su YouTube vi chiedono per... ...di avere almeno 25 iscritti, oppure eccetera, merdate. Però io non so, anche come loro, io sono più diverso. Anche se avete 10 iscritti o un iscritto, non mi frena un cazzo. Io sto cercando di dare un'opportunità a tutti. Ehm... L'unica cosa che voglio è che... ...mi fate una domanda. Ehm... ...ehm... ...scrivete... ...ovviamente il mio nome, così io... ...so vederlo quando... ...commentate. Ehm... ...scrivetemi una domanda e... ...ehm... ...mi faccio un video di sponsorizzazioni e... ...ehm... 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 ...gol? Dimmi che è gol? Oh, tacitullo! Ma come cazzo ci fa? Oh, wow! Oh, wow! Xavi! I think for Xavi and the other Spain players... ...it must have been... ...very hard to work out what went wrong. I mean... ...most believe... ...l'azione che era... ...anche io ho preso un gol così... ...evo finirlo con tre gol. Che cazzo di passaggio è quello, Modri? Oh, iiii... ...calma, iiii... ...sì, Cantoro! ...che rato... ...oh... ...non fatemi piangere... ... ...non segnerà a minga sto qua! ... ...slippi la falletta... ...oiii... ...ehm... ...ehm... ...sione... ... ...obviamente per i miei... ...follower... ...per i miei... ...quelli da chi mi seguono... ...io non faccio una finale così... ...una conclusione così... ...una merda... ...quindi volevo ovviamente... ...cedere scusa... e volevo fare questo video per dire grazie mille per i 68 iscritti abbiamo superato 50 iscritti volevo dirvi grazie mille per il vostro sostegno perché senza di voi io ho un successo che vedevo la differenza sul mio canale non volevo abbastanza differenza allora io non smettevo di fare il video però adesso che vedo che ci sono persone che mi aiutano mi sostengono mi invitano tante cose ho capito che si devo continuare voglio fermarmi perché intanto vede non cresco adesso sto crescendo un pianino su youtube magari 2-3 anni chissà dove sarò quindi volevo dire grazie mille e niente voglio anche farvi sapere che inizierò fare i video su sponsorizzazioni quindi voglio come vi ho detto scrivetemelo in questo commento e lo scoprire la domanda potremmo far capire e niente ragazzi questo è l'edifico grazie mille per il vostro sostegno grazie mille per il vostro sostegno grazie mille per aver guardato sto video grazie mille per aver guardato tutti i miei video grazie mille per i commenti positivi grazie mille per nessun dislike fino adesso però i likes e grazie mille per tutto questo è Dede Mitico che vi parla grazie mille per il vostro sostegno